Ci siamo? Beh... Allora, non mi divulgherei troppo con le parole, ma siamo sulla blindatissima, più che blindata, run, corsa, su questo Dark Souls 3. Non vi mostro la webcam perché potrei essere in condizioni alquanto... no, disagiate, esatto, disagiate. E quindi, partiamo. Così, proprio instant. A me piace assolutamente così. Perfetto. Non mi ha schivato, ma va benissimo. Perché sì, perché dai. Che cazzo ho premuto? Ok, e non so, i pulsanti, a quanto pare. R1 di era un nemico, vabbè, sì, il backstep. Boom. Eeeh, mamma mia, squartato proprio. Come ovviamente ogni Dark Souls, il ragdoll è fatto a merda. Ah, ma va, è il bello del gioco, non so. Oh, eccolo. E sono morti, a posto. Infatti che la visuale è messa a merda. Un falò. Un falò, quindi, indubbiamente, questa è la direzione giusta. Ci siamo. Primo falò. E subito trofeo. Lì c'è un tizio, lì c'è un altro. Ho detto bene, non mi dovrei. Eeeh, sì. Eeeh, sì. Siete indubbiamente morti. Madonna. Ma io ho levato meno con l'attacco caricato? Che... Ah, ma siete in tre. Wow. Wow. Non me ne ero veramente accorto. Mi hanno preso alla sprovvista. Ah, ecco perché. Immaginavo. Vabbè, stiamo praticamente facendo il tutorial. E quello lì, purtroppo... Purtroppo quello lì già me lo so spoilerato. Eeeh, diciamo, un primo... Mamma mia, mi ha fatto veramente paura. Diciamo il primo boss da battere. Andiamo a farcelo. Oh, adesso mi metto in posizione da battaglia. Wow. Le macchine di sangue non fanno prestagire molto bene. E lo faremo. Oh, sì. Poi mi devi spiegare come hai fatto, eh. Che altro rimanere bloccato? Mamma mia. Oh. Eeeh. Ti piaceria? No! Wow. No. Eeeh. Non ho fioschetti! Ah! Sinfatico! Dovrei fare tipo un no damage, fiss try. Esatto. Stavo per dire che non ce la farò mai, ma... La... Apparente è successo da... Se è una cosa che ho imparato in Dark Souls è mai dire... Ok. Dio! Eeeh, è l'abitudine, raga. Devo ricaricare. Eeeh. Devo ricaricare la clava. Non lo sapete, la clava si ricarica. Eh, dai. Puff! Oh! Ma siamo ancora live! Mamma mia. Eh. Mi sta mostrando da dove l'ha tirata, che prima... No, mi sei... Mi sei... Levato il lock sul... No! Merda. Eccolo. Eeeh, vabbè. E vabbè. Che cosa sei? Che cosa cazzo sei? No, ma... Levi poco, eh. Eeeh? E vabbè. Comunque, come prima boss, non possono mettere uno... Con un'arma così... Tanto lunga. Eeeh, vabbè. Sei infame, però. Sì, cazzo, sì, vai, mamma mia. Riga, ho patito, ho patito, ho patito a bastare. Proseguiamo. C'è solo una porta. Questa porta condurrà agli inferi. Wow. Madonna. Non le fanno più le porte di una volta in massello, eh. Vanno di moda in pietra. Non ho visto nessuno. Mancateo. E qua? Con quel cortellino svizzero, dove vai? Manca l'aeroporto, le fanno passare. Eh. Ok, ritiro tutto. Ritiro tutto. Lei, signore, è una persona molto pericolosa. Ah, madonna. Uscutavo e ho perso tutto. Dove stiamo andando? Sembra una torre. Niente male. La vedo dei nemici. Io direi di non risparmianne neanche uno. Ecco. Poi, se magari non mi uccidono a me, è meglio. Occhio, quello con le frecce. Infatti. A posto. Ah. Proprio così. Tacci tua. Saperlo. Ti portavo all'accolisti anonimi. Qui. Sicuramente c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Non so se è qualcosa. Perché a volte ti mettono delle trappolozze, ma di quelle pesanti. È il momento di salto. Ovvio. I cani. È andato giù. Sbaglio? È andato giù. Brace. Adesso possiamo cucinare tutti quei cani che troveremo in giro. È il momento di salto. E il bello è che c'è gente che li segue a volte e si consiglia. Perché è morta qui la gente? E non so se lo voglio veramente scoprire. Qua c'è qualcosa. Quell'altro che fa? Dorme. Fa finta di dormire. Mamma mia. Recitazione da Oscar. Scudo. Questo ce lo mettiamo immediati subito. Che è peggio di quello che ho adesso. Non può essere. Prova scontro a distanza. In che senso? Ok. Ok, ok. Manteniamo la calma. Manteniamo la calma. Manteniamo la calma. Calma mantenuta. Quindi io direi di evitare totalmente quella strada e andare per di qua. Bene. Per di qua non si può andare. Quindi io direi di ritornare su quell'altra strada e non morire. Portamolo tipo... Anche qua va bene. Sì ma scendi. Va bene, sì va bene. Minchia la vita. Uh. Fff. Andiamo a ricaricarci. No, è vero così. Respawni ai nemici. Ci provo. Ci provo. Al massimo mi venga ripiare le anime. Allora. Oh. L'attenativa era entrare. No. Non eri da uccidere. Buono, buono. Wow. Qui si avanza di livello. Quindi andiamo a recuperare la roba perduta. Vai, vai. Ok. Ci siamo sporcati un po'. Ci siamo sporcati un po'. E abbiamo sbloccato un altro falò. Oh my god. Quindi stavo dicendo... Porco tu è mazza. Quindi io direi di... Per ora. Dato che siamo veramente scarsetti. Destrezza. Forza. Ce la facciamo abbastanza equilibrata all'inizio. Vitalità aumenta solo i pv. E quindi. Arriviamo al livello 5. Wow. Wow. No male. E io direi che per questa prima parte possiamo concluderla qui. E io direi che per questa prima parte possiamo concludere qui. Grazie. Grazie.